Buonasera ragazzi, qui all'imbrunire con questo sfondo calcistico, in questo crepuscolo durante la passeggiata serale, si pensa, si riflette e chiaramente si pensa alla Fiorentina, a quel che sarà, a quel che è e quel che potrebbe essere. Andiamo punto punto. Allora, a quel che è, domani c'è una partita che molti la vorrebbero saltare, però tocca farla, non so quanti titolari vedremo, o comunque non so quante energie si spenderanno, è vero anche che il discorso ottavo posto ancora non è matematicamente chiuso, quindi bisognerebbe chiuderlo al meglio. Il Cagliari è ormai salvo, anzi colgo l'occasione per fare un grande inchino, inchino, non saluto, inchino al mister, uno dei più grandi di sempre, forse il più grande di tutti, almeno moralmente parlando, mister Claudio Ranieri. Cosa gli vuoi dire? Come poteva chiudersi la carriera di Claudio Ranieri se non con questa salvezza conquistata? Cioè, bello, 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 romantico. A noi, noi romantici del calcio apprezziamo questo e poi stimiamo le grandi persone, persona di cuore, grande professionista, grande allenatore. L'avrei voluto, sì, come molti di voi, l'avrei voluto vedere un'ultima volta nella panchina e domani lo saluteremo. Il Cagliari, come detto, ormai in vacanza, già salvo. Sicuramente non vorrà fare brutta figura nell'ultima di campionato, però la Fiorentina ha bisogno di una vittoria per chiudere matematicamente i conti. Poi, se ci dovesse essere un pareggio, chiaramente dobbiamo guardare cosa fa Torino, però ci potrebbe essere la seconda chance con Gasperini, che stasera, tra l'altro, si gioca quello che è il tutto per tutto. Potrebbe essere l'Atalanta una seconda Fiorentina che perde due finali su due, oppure essere la prima squadra a battere il Bayer Leverkusen. Vediamo, vediamo. Comunque ci hanno promesso che l'ultima partita ce la regalavano. Vediamo se Gasperini e la sua banda saranno di parola. Poi, sempre rimanendo sul tema Cagliari, quindi non so quanti titolari ci saranno, ovviamente perché la priorità, adesso il pensiero numero uno, è la finale di Atene, come è giusto che sia, ma rimanendo in tema allenatori, ieri si è parlato del grande Sarri. Allora, vi dico un po' la mia brevemente. Per me, certe dichiarazioni, calcisticamente parlando, si fanno quando non si ha niente da dire. Mi spiego meglio. Cioè, non ci si sbilancia così tanto, ok, se dietro non c'è una mancata verità nel calcio. Secondo me Sarri ha già un accordo con un'altra squadra, che non è la Fiorentina. Per n motivi. Perché qualcuno gli può aver proposto, indipendentemente dal fatto che possa comunque apprezzare la panchina viola, però qualcuno gli può aver proposto qualcosa di migliore, lato suo, ma anche lato Fiorentina, perché lo sappiamo, insomma, non è che non è la prima scelta societaria. So che per molti subito puntano il dito dicendo, vedi, la Fiorentina non ha ambizioni. In realtà, diciamo che Sarri, prima di tutto, è più un colpo mediatico, che apprezzerei anche personalmente, siamo d'accordo, però è più un colpo mediatico che un colpo di prospettiva. Cioè, io non è che voglio difendere la società, però capisco anche se la società poi dopo esce con il discorso è ma voglio cercare qualcuno che a lungo termine mi dia più certezza. Poi nel calcio a lungo termine non esiste, siamo d'accordo. L'alternativa non è di fare i valori, perché non è che vai a prendere clop, cioè vai a prendere sicuramente un allenatore molto emergente, e ne abbiamo già parlato, quindi sicuramente gli aspetti negativi di questa scelta ci sono. Però è anche da dire che Maurizio Sarri in questo momento non ha l'ambizione, per me è, l'ambizione di andare in un club come la Fiorentina dove si deve costruire o continuare un percorso medio-lungo. Perché la Fiorentina il prossimo anno non ambirrà alla Champions, come probabilmente non ambirrà nemmeno ai primi cinque, alla quinta posizione. Al massimo, se domani, scusate, settimana prossima, dovessimo vincere la finale e accedere all'Europa League, l'obiettivo sarà quello di riconfermarsi in Europa League. Quindi gli step sono veramente piccoli, ecco. Poi mi dirai, ma come ci si riconferma con un allenatore come Palladino, che ancora non è mai stato in Europa? Come ci si riconferma con allenatori emergenti come Aquilani, che non ha fatto benissimo al Pisa? Questi sono discorsi che si vedranno, e siamo per molte cose anche d'accordo. Però un profilo come Sarri, in questo momento, per n motivi, non può incontrarsi con la Fiorentina. Io sono di questa opinione. Detto questo, ragazzi, invece, commentate voi con quello che è il vostro pensiero su Sarri, sul nuovo allenatore possibile, sulla finale, dove la vedrete? Io la voglio vedere allo stadio, tra l'altro. Mi hanno detto si vede di merda, si sente ancora peggio, però io ci voglio stesso. E poi un saluto, un omaggio al mister, un inchino al mister Claudio Ranieri. Ci vediamo domani nel post partita. Ciao ciao!